La bellezza di Caterina Balivo non è assolutamente in discussione e anche nelle ultime ore la conduttrice non ha perso occasione di mostrare il suo fascino. Gambe mozzafiato e annuncio ai fan. Caterina Balivo scatta la foto e conquista ancora una volta Instagram. La nota conduttrice continua a fare il pieno di follower e consensi con gli scatti pubblicati sul suo profilo. Questa volta ci porta con lei in una gita speciale, che da quanto dice, consiglia assolutamente. Il vestito è cortissimo e lascia spazio a tutta la sua eleganza mozzafiato. Una bellezza e una classe che dominano anche questo weekend di suoi fan, i quali ormai non possono proprio fare a meno di lei. Tutto è iniziato con la sua partecipazione a Miss Italia. La sua ascesa alla conduzione televisiva l'ha poi portata a diventare una delle più amate e chiacchierate in assoluto nel panorama Rai. Sono molte le trasmissioni in cui ha totalmente brillato e conquistato ottimi ascolti da parte del pubblico. Da, uno mattina, a, detto fatto, e, vieni da me. Ora non si limita solo al campo televisivo, ma conquista tutti anche sul web, pubblicando puntualmente foto mozzafiato. La Balivo consiglia i suoi fan e ci porta in un posto speciale. Come sottolinea in didascalia, infatti, quanto sono belli i picnic. Oggi sono tornata dopo 20 anni sul lago di Bracciano, un posto magico. Ve lo consiglio. Lei è intenuta casual con sneakers e vestito corto. Impossibile non notare le gambe da urlo che rubano immediatamente lo sguardo dei follower. E chi può ascolti il suo consiglio e faccia una bella gita al lago. Intanto noi ci accontentiamo di tutta la sua bellezza. E chi può ascoltare le gambe da urlo che rubano immediatamente lo sguardo delle gambe da urlo che rubano immediatamente lo sguardo delle gambe da urlo che rubano immediatamente lo sguardo. Grazie a tutti.